Al teatro Gobetti va in scena lo spettacolo Dulan la sposa scritto da Melania Mazzucco con la regia di Valerio Binasco Le repliche dal 25 al 30 ottobre saranno accessibili tramite sopra titolazione in italiano e in italiano semplificato su smart glasses e smartphone forniti dal Teatro Stabile di Torino audio introduzione e tour tattile Lo spettacolo è in programma da martedì a domenica con i seguenti orari martedì, giovedì e sabato ore 19 e 30 mercoledì e venerdì ore 20 e 45 domenica ore 15 e 30 La durata è di un'ora e 20 minuti senza intervallo Valerio Binasco porta in scena un dramma contemporaneo scritto nel 2001 per la radio premiato come miglior radiodramma dell'anno I personaggi sono tre Il marito interpretato dal regista Valerio Binasco La moglie interpretata da Mariangela Granelli Una giovane clandestina interpretata da Cristina Parcu Due neosposi si svegliano nella loro nuova casa Il primo giorno di nozze è turbato dalla morte misteriosa di una giovane donna straniera appena accaduta nel loro condominio La tragicità di questa morte agita la moglie che interroga il marito sull'accaduto Il marito nega di conoscere la ragazza Con un salto nel passato scopriamo che l'uomo aveva avuto una relazione segreta e morbosa con la giovane clandestina proprio in quella casa Nasce una storia d'amore malata con esiti tragici La giovane straniera si ritrova imprigionata senza scopo se non quello di compiacere i desideri del suo amante accettando i suoi comportamenti violenti Si potrebbe definire un noir che invita a riflettere sui temi della morbosità dell'amore e del razzismo L'ambientazione è contemporanea La scena si svolge sempre nell'appartamento dei due sposi La scenografia è minimale dalla tonalità bianca Sul fondo della scena c'è una parete bianca al centro della quale si trova la porta di ingresso dell'appartamento Sulla destra c'è un divano di pelle bianca e sulla sinistra una sedia La luce che filtra attraverso le tapparelle di una finestra mostra lo scorrere del tempo In alcune scene i suoni rimandano a oggetti reali ma non visibili Gli attori mimano i gesti sulla scena mentre si sente il rumore dell'azione compiuta Ad esempio apparecchiare la tavola o farsi un bagno nella vasca Il marito indossa un completo semplice marrone chiaro e una camicia a righe celeste Ha una valigetta di pelle Durante il corso dello spettacolo il suo aspetto sarà sempre più trascurato La moglie è in scena con un abito classico elegante con pantaloni e camicia chiara o con una camicia da notte corta di cotone leggero con una fantasia grigio e rosa La giovane straniera indossa una gonna gialla a fiori lunga fino al ginocchio e una canottiera rosa che lascia intravedere un reggiseno verde scuro Ai piedi, oltre alle ciabatte bianche e dei calzini a volte indossa degli stivali di vernice rossa con il tacco Melania Mazzucco è una scrittrice italiana di saggi, commedie, radiodrammi e sceneggiature cinematografiche Nella sua carriera ha ricevuto moltissimi premi letterari e teatrali Nei suoi testi affronta spesso problematiche sulla società attuale Valerio Binasco dal 2018 è il direttore artistico del Teatro Stabile di Torino e direttore della Scuola per Attori è autore, regista e interprete teatrale e cinematografico e ha ricevuto nella sua carriera molti premi tra le sue regie più recenti e applaudite al Teatro Stabile di Torino Sogno di una notte di mezz'estate Amleto e Le sedie Per ricevere maggiori informazioni su orari, prezzi e modalità di accesso contattaci all'indirizzo accessibilità-teatrostabile-torino.it o al numero di telefono 011-5169-460 Per organizzare al meglio la tua accoglienza ti chiediamo di prenotare in anticipo i biglietti contattandoci e specificando eventuali necessità all'indirizzo biglietteria-teatrostabile-torino.it o al numero 011-5169-555 Le persone con disabilità hanno diritto al biglietto ridotto e, in caso di necessità, l'eventuale accompagnatore ha diritto all'ingresso omaggio.